Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace, giornata di sabato che vedrà ancora pesante e maltempo su gran parte d'Italia. Vedete quest'area depressionaria a cui è legata questa perturbazione che interesserà in particolar modo le regioni di nord-est ma anche quelle del centro Italia. Vediamo nel dettaglio la nuvolosità attesa sull'Italia. Vedete schiarite anche ampie, si faranno strada nel corso della giornata sulle regioni di nord-ovest. Altrove invece cieli irregolarmente nuvolosi con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Precipitazioni attese per la giornata di sabato. Al mattino ancora troveremo precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, poi il fronte perturbato scorre verso est. Quindi schiarite come detto al nord-ovest precipitazioni che si andranno a concentrare sul nord-est e sulle regioni centrali. In definitiva ecco la previsione per la giornata di sabato sull'Italia. Sicilia come detto ancora in stabilità al nord, specie al nord-est con schiarite invece in giornata sulle regioni di nord-ovest. Peggiora sulle regioni centrali, rovesci e temporali anche di forte intensità. Migliora invece ancora la situazione sulle regioni del sud, quindi occasione per schiarite anche ampie. Qualche acquazzone atteso solamente sulla campagna. Per quanto riguarda le temperature sono attese in calo al centro nord. In generale invece rialzo a sud, specie sulla Sicilia a causa del rinforzo dei venti di Scirocco. Per questo aggiornamento è tutto. Ulteriori dettagli come sempre scaricando la nostra app gratuita Trebi Meteo.